ciao a tutti ragazzi io mi chiamo biaggio e benvenuti su questo nuovo video ovviamente sono di nuovo a casa stato orribile è stato 9 giorni da mia nonna posso stare solo qui faccio vedere le cose che sono successe stato triste questo è giorno 3 vedete vedete raga stato orribile questo è il giorno 3 domenica che non è capitato sto sono io che ho parlato è finito il video partiamo con il prossimo affumicato vedete la mia casa si è incendiata io non so il motivo qui guardate qua questo è sempre di domenica stato orribile poi questa è una foto a casa di mia nonna qua in quella porta marrone e dove stavamo dormendo e perciò posso stare a casa ma per mangiare e per giocare con la playstation e altre cose ma per dormire o lavarci dobbiamo andare da mia nonna per ora vedete tutto disastro questo è del giorno 5 giugno vedete la stanza da letto com'era tutte bruciate scale rovinate tutto rovinato qua c'è un video vedete guardate guardate ma oggi non ci sono più tutte queste cose nelle scale a sopra ci sono ancora alcune cose in disordine fin quando non si sistema la casa. Questo è il bagno incendiato, alcune cose si sono salvate. Questa è mia zia che parla, la mia preziosa sveglia preferita è stata distrutta. È stato orribile. Il mio puzzle. Dove è finito il mio puzzle? Il puzzle che si è bruciato, disintegrato, perché era qui, in questo muro, sempre staccato. Beh, poi, quando si stema la casa, ne comprerò un altro. Però non è uguale a quello, è di giurarsi il cuore di lui, il regno distrutto. Faccio un altro video. Aspettate, che non vuole partire. Vedete? Questa è la terrazza. Sembra di giorno 5, giugno. Qua le mie cose sono intatte. Sono solo i sacchi bruciati, però il mio T-rex è squagliato. però, con i pezzi del... No, questo lasciamo perdere. Non ce ne sono più. E perciò, vedete come è andato a finire. Però, man mano si aggiusterà la cosa. E potremo dormire e io stare tutto il tempo qui. Giocare con la playstation, PSP, tablet, mio telefono. Quando si sistema però la casa. Posso stare. E... E bene. Bene, ragazzi. Spero che questo video non è stato così bello. È stato orribile. Mettete tipo commenti. Ma mi piace niente, ok? Zero mi piace. Visualizzazioni su qualcosa. Ma mi piace niente. Che è orribile questa cosa, ok? Se riesco a caricare questo video in tempo farò un altro, ok? Ciao, raga!